Calcio di Serie C perché domani inizierà la giornata numero 26, un turno infrasettimanale. Pescara a caccia del riscatto dopo la batosta di Gubbio. I biancazzurri ospiteranno l'Adriatico Cornacchi alla Spal, gara con inizio da 20.45. Il Pineto invece reduce dal 1-1 interno con la Lucchese nel primo match con il nuovo tecnico Roberto Ben in panchina. Giocherà in trasferta a Pontedera. Partita che Rete 8 trasmetterà in diretta in chiaro e in esclusiva. Prepartita a partire dalle 18.15 con diretta calcio mentre il fischio d'inizio è fissato alle 18.30. Noi per parlare del Pescara ma anche del Pineto abbiamo in studio Massimo Profeta che saluto. Buon pomeriggio Massimo. Buon pomeriggio a te Paolo e a tutti gli amici in visione all'ascolto naturalmente. Allora partiamo dal Pescara che deve riscattarsi per forza di cose. Un 4-0 pesantissimo speriamo che non siano rimaste scorie perché si gioca dopo pochi giorni. Sì sicuramente è stata una serataccia nel discorso a Gubbio. È stato presentato un centrocampo senza interdizione, senza fisicità, senza impatto fisico. Soprattutto contro un avversario come il Gubbio in grande salute, la squadra più in forma del campionato insieme con il Cesena. Sette vittorie ed un pareggio non perdere lo scorso 9 dicembre 2-1 sul campo del Pontellera. Gubbio che fa proprio dell'aggressività, del ritmo, della fisicità alle sue armi peculiari. Il Pescara si è consegnato, è stato in partita nei primi 15 minuti. Un solo tiro in porta con Milani. E poi insomma sappiamo tutti come è andata a finire. C'è l'opportunità di riscattarsi. Naturalmente la SPAL è la grande delusione di questo campionato. Retrocessa della B nei bassi fondi della classifica. Ha richiamato la SPAL il tecnico che inizialmente guidava la formazione Stets. Vorrei dire Domenico Di Carlo. Le prime 5 giornate 6 punti. Poi c'è stata Lera Colucci che è stata disastrosa. Soltanto 15 punti in 19 partite. Ebbene Di Carlo ha vinto la sua prima partita dal ritorno sulla panchina della SPAL. Proprio contro la Re Canatese che in caduta libera. Tu pensa la Re Canatese Paolo? Ha subito 9 sconfitte nelle ultime 12 partite. Soltanto 3 punti racimolati dalla squadra di Giovanni Pagliari. Tornando alla Pescara. La novità, se possiamo definirla così. Perché è stata dirammata la lista dei convocati. Anzi abbiamo anche scritto una notizia sul nostro sito www.retiotto.it. A sorpresa c'è Di Pasquale. Tra i convocati Di Pasquale non si è allenato neanche questa mattina. Ha accusato un fastidio alla schiena. Tant'è che è stato sostituito. Difficilmente scenderà dal primo minuto. E questo lo sappiamo. Però è stato convocato. Questa è la notizia. Vedremo. Però sicuramente ci sarà Pellacani. Perché è squalificato Brosco. E allora possiamo dare uno sguardo alla probabile formazione. Naturalmente siamo nel campo delle supposizioni perché non ci prendiamo mai con Zeman in panchina. Però insomma secondo noi allora Brosco è indisponibile per la squalifica. Non ci sono neanche gli infortunati lungo corso a questo punto a Cornero e Vergani. Allora Plizzari tre pali. Floriani a destra. Riprenderà il suo posto da titolare. Dopo che era stato impiegato Pierno con scarsi risultati dobbiamo dire nella trasferta di Gubbio. Pellacani che fa il suo ritorno in campo a distanza di quasi due mesi dall'intervento al ginocchio. Menisco interno lo scorso 18 dicembre. Torniamo ancora alla schermata del Pescara. Poi abbiamo detto di appunto Messico. Di Pasquale. Vedremo. Di Pasquale è stato convocato. Probabilmente giocherà a Messic. Non lo sappiamo. Milani a sinistra. E poi a centrocampo altri cambi con il ritorno tra i titolari di Squizzato. Alloio Franchini come mezzo alla destra. Dovrebbe essere confermato Meazzi. E davanti. Attenzione a Sasanelli che scalpita. Ne ha parlato molto bene Zeman nel post partita di Gubbio. Lo ha fatto esordire. Potrebbe giocare dall'inizio. Noi pensiamo invece che giocherà. Comunque sarà confermato Cuppone. E magari sarà un'arma importante in corso d'opera. Sasanelli che un 2004 è molto giovane. Viene da un campionato di Serie D. Da mezzo campionato di Serie D con 7 gol in 20 presenze con la maglia dell'Andra. E poi Cangiano che tornerà a titolare in luogo di Capone. Naturalmente confermatissimo Merola che non sta facendo benissimo. Meglio che ha fatto male nella trasferta di Gubbio. E ha fatto molto bene nelle precedenti gare in cui ha giocato. Vediamo la Spal. La Spal che intanto ha 7 assenze. Saiani, Bassoli, Siligardi, Sitz, Arena, campionato finito. Bertini e lo squalificato, Peda, un polacco di cui si parla molto bene. Ha giocato anche lo scorso anno in Serie B, un classe 2002. Allora, Galeotti tre pali, un 4-4-2 con Ghiringagli, Fiordaleso, Valentini e Brusca Gin. Tutti di piede destro. Questa è la curiosità perché i due mancini. Saiani è infortunato e quindi non sarà neanche convocato. L'altro, terzino sinistro, è Tripaldelli che non è al meglio della condizione e dunque partirà dalla panchina. Centro capo, l'ex Carraro insieme con Contigliano. Buckel, che tu conosci perché è giocato nel Lanciano nella stagione 2013-2014, dovrebbe partire dalla panchina. Edra, giocatore di grande qualità, arrivato a dicembre da Svincolato, classe 97, scuola Torino a destra. A sinistra, Dalmonte o l'altro ex maestro. E poi davanti, Petrovic e Rabbi. Petrovic è arrivato a gennaio dal Trento, è un croato classe 99, ha segnato 7 gol con la maglia del Trento. E poi Rabbi, che è un giovane anche di prospettiva, 2001, scuola a Bologna, prenderà il posto di Zilli, che non è al meglio della condizione. Pineto invece abbiamo detto a Pontedera, inizio della gara 18.30, vi ricordo la diretta su Rete 8 in chiaro e in esclusiva. Pontedera è un cliente davvero molto difficile, poi abbiamo visto prima la classifica che si è ulteriormente accorciata proprio per le zone calde. Assolutamente. Perché hanno vinto dietro tre squadre su quattro, credo. Eh sì, poi tra l'altro... Ha vinto l'Ini, Ancona, anche il Sesti Levante, ha vinto il Bispesaro. Tra l'altro l'Ini, Ancona ha vinto nel posticipo contro l'Olbia 2 a 0, quindi è stata accorciata la classifica proprio nelle zone basse della gradatoria. La caccia di punti, sicuramente. Il Pineto ha adesso due punti di vantaggio sulla zona play-out, è vero che ci sono tante squadre. Beh, il Pontedera è una delle squadre, secondo me, rivelazione del campionato, ha una chiara identità dal punto di vista del gioco. Una squadra che gioca molto bene, però diciamo che in casa ha già subito cinque sconfitte. Non è un cliente facile per il Pineto. Il Pineto ha ottenuto questo punto, tanti rimpianti, perché aveva sbloccato la situazione al 76esimo con la Luchese. E poi c'è stato il pareggio all'ultimo respiro di Capitan Tiritiello, era andato in vantaggio il Pineto con Ingrosso. Vedremo che cosa succederà. Noi trasmetteremo questa partita, hai fatto bene a ricordarlo, domani in esclusiva, in chiaro, su Rete 8, dalle 18.15. Prepartita la gara avrà inizio alle 18.30. Non ci saranno, saranno ancora indisponibili, sia Evangelisti che Amadio, che sono due pedine importanti per la squadra di Roberto Beni. E' acciaccato, invece, un altro giocatore della formazione pinetese, vale a dire Baggi. Vedremo se sarà in casa. L'ultima cosa su questa sfida di Pontedera. Pontedera che segna parecchio. Sì, è una squadra che segna tantissimo. Ripeto, è una squadra che ha una chiara identità, un'impronta, direi, riconoscibile, data dal suo allenatore, Max Cazzi, che secondo me è uno dei migliori della categoria.